I vertici del partito ex comunista del Partito Democratico si interessavano e come delle banche e so anche da parte del governatore Fazio che da lui erano andati Bersani e altri due papaveri del suo partito per perorare la possibilità di un accordo di fusione tra Unipol, Montepaschi e Banca Nazionale. Quindi questo è un grosso, grossissimo scandalo che fa capo al Partito Democratico che si è speso nei confronti dei magistrati amici, nei confronti dei giornali amici affinché si creasse questa cortina fumogena che ha già portato a dei risultati perché uno scandalo così grosso è già scivolato via dalle prime pagine.